Siamo con Alexander Buxa, oggi ha segnato un gol molto importante nella vittoria contro l'Atalanta, ci chiede di fare le domande in inglese perché il suo italiano è ancora in fase di costruzione, quindi adesso gli chiediamo che partita ha visto dal campo. Quale gioco hai visto dal campo oggi? E' stato sicuramente un gioco difficile, l'Atalanta è un ottimo gol. Vogliamo mantenere il nostro stile e cercare di creare alcune possibilità. E' stato buono che ho creato alcune possibilità per il team e sono molto felice che ho scoperto il gol. Sì, hai scoperto un gol che è stato un gol massivo. E' stato il mio primo gol in Genoa primavera. Il primo gol è sempre molto importante per me, ma anche per il team. C'è stato un gol importante per il Genoa come squadra. Per me è un sentimento incredibile e spero che nei prossimi giochi continueremo questo stile, lavoreremo fortemente e vincere la prossima. Sì, e parlando del gol. Qual è il vostro gol per questa settimana? Qual è il vostro gol per questa settimana? Per la Liga, per la Champions? Qual è il vostro gol, il vostro obiettivo, il vostro target? In ogni match in Primavera, ho cercato di fare progressi. Individuo progressi. Quando faccio progressi per me, ho saputo che il team può ottenere qualcosa dal mio gioco, dal mio stile. Quindi, in ogni match, se faccio un altro passo, vedo che è un'avventura per il team. Quindi, dal più piccolo al più alto, ho bisogno di concentrarsi su ogni particolare training. E spero che nei prossimi giorni ho mantenuto questa mentalità e giocare come oggi. Buon Natale per tutti i giornalisti tifosi!